Era il 5 luglio 1943, quando con un gesto eroico l'aviatore Brindisino, medaglia d'oro al valor militare, sottotenente, pilota Leonardo Ferrulli, per evitare di cadere sulle case del centro abitato di Scordia nel Catanese, nel tentativo di non convolgere la popolazione civile. Invece di lanciarsi con il paracadute, rimase eroicamente nell'abitacolo del suo veicolo nei cieli della Sicilia, schiantandosi in un campo di grano e perdendo la vita, ma salvandone numerose. L'asso arma aeronautica della sezione di Brindisi ha voluto ricordarlo, con la deposizione di una corona d'oro presso la casa, in cui vide la luce l'eroe Brindisino, dove dal 5 luglio 2014 è stata posta una lapide a ricordo. Ritengo che sono figure cardine per la comunità, perché conservano nella loro azione e nel tempo, quei valori che ogni uomo dovrebbe avere per finalizzare l'azione giornaliera portata nell'interesse della comunità. Sono convinto che queste figure non tramonteranno mai, cioè l'apparente indifferenza davanti a queste figure nei momenti di necessità riemergono per i valori che sono insiti in queste persone e in cose rappresentano. Nella figura di Aldo si vince sempre una considerazione profonda. La madre lo chiamava Aldo, appunto, in un modo assolutamente simpatico. E Aldo in quel momento probabilmente deve aver pensato a tutto il percorso di vita con la madre. E la madre gli metteva sempre il dubbio, ma perché vai? Ma perché se non ci vado io, chi ci va? Diceva. E quindi in quel momento ha vinto in lui il valore più alto, il volo più ardito, quello di mettere in moto tutti i valori e salvare la gente, perché questo è il compito di un aviatore, è il compito di un soldato, è un compito di un eroe.